Buongiorno, mi chiamo Nicoletta Bonanno, frequento liceo scientifico Eisenberger di Monza e sono della classe Quinta BL. Il mio tutor scolastico è la professoressa Roberta Sofi, mentre i miei tutor dell'osservatorio sono la dottoressa Rosa Maria Panzera e Agnese Mandrino. Il progetto BCTO a cui sto lavorando si chiama Evelius dall'antico al moderno e in questi giorni ho avuto l'occasione di leggere l'articolo L'abbraccio fatale di una coppia di mostri e di cui uno degli autori appunto Paola Severnini che oggi andremo a intervistare. Buongiorno Paola, grazie per essere qui con noi. Paola Nicoletta, mi piace. Ho letto con molto interesse questo articolo e se per te va bene volevo porti qualche domanda a riguardo. Inoltre volevo specificare che questo non è l'unica intervista riguardo su questo articolo, ma ne ho già fatta una e ne dovrò fare un'altra, sempre su questo articolo, quindi una serie di puntate. Allora, la prima domanda è di cosa ti sei occupata nell'articolo? Allora, dunque, premettiamo il fatto che di solito quando si fa un progetto di ricerca, il progetto di solito non viene mai condotto da un singolo ricercatore, ma c'è un team di ricercatori che segue il lavoro e dà consigli per ottenere poi il risultato. È stato così anche nel caso del lavoro sulla ricerca di coppie di buchi neri supermassicci, il quale è stato condotto in prima persona da Roberto Serrafinelli, che tu hai già conosciuto. Però Roberto è stato sicuramente supportato e aiutato da tutto il team di ricercatori che sono poi i coautori del lavoro stesso e tra i quali ci sono anch'io. Allora, il goal del lavoro è stato quello di osservare, trovare, coppie di buchi neri supermassicci, ovvero buchi neri con masse molto elevate, dell'ordine di un milione, un miliardo di masse solari, ok? E noi le abbiamo cercate a distanze dell'ordine di cento miliardi di chilometri, cioè a distanze tali per cui i due buchi neri supermassicci fossero nella fase di precoalescenza, cioè fossero nella fase precedente allo scontro dei due buchi neri. Perché? Perché in questa fase ci si aspetta che vengano emesse delle potenti onde gravitazionali. Allora, se dovessi dirti qual è stato il mio primo contributo a questo lavoro, probabilmente risale a qualche anno fa, quando stavo portando avanti un progetto di ricerca e stavo, diciamo, analizzando dei dati nella banda X per una galassia nell'universo vicino. E mi sono resa conto che questa galassia aveva, diciamo, tutte le caratteristiche previste dai modelli teorici per ospitare una coppia di buchi neri supermassicci. Quindi, insomma, mi sono abbastanza esaltata per questa scoperta, per questo risultato che ho trovato. Allora ho detto, vabbè, ma perché limitarmi a una galassia? Sarebbe bello fare una ricerca sistematica di queste coppie di buchi neri in tutte le galassie a noi vicine. Allora, niente, quando Roberto Serafinelli è arrivato a lavorare con noi, io gli ho proposto di lavorare in prima persona su questo progetto. Lui, ovviamente, ha accettato molto volentieri e quindi abbiamo iniziato a lavorare insieme. Da lì in poi il mio contributo è stato proprio quello di, diciamo, aiutare Roberto a affiancarlo per scegliere il catalogo di sorgenti più adatto, per decidere i criteri di selezione da usare, per appunto selezionare le sorgenti e per decidere i test statistici da fare per validare, ovviamente, poi i risultati che man mano si ottenevano. Ecco, ne abbiamo trovata una, probabilmente, di coppia di buchi neri supermassicci e siamo felicissimi perché c'è da dire che osservare coppie di buchi neri supermassicci è ancora una sfida veramente totalmente aperta per noi astrofisici. Grazie, ma le caratteristiche della galassia di cui lei sta parlando, puoi spiegarci brevemente quali sono? Certo, sì, certo. Allora, io stavo osservando la galassia, cioè analizzavo l'emissione nei raggi X di questa galassia e l'emissione nei raggi X variava in maniera periodica, tipo una sinusoide. Questa è su tempi scala di 20-25 mesi. Allora, la periodicità nell'emissione X è, diciamo, una caratteristica aspettata proprio da coppie di buchi neri supermassicci. L'emissione X proviene dalle zone più vicine ai due buchi neri, ok? E quindi, quando i due buchi neri ruotano uno intorno all'altro, ok? Quello che ti aspetti di vedere è in un momento un'emissione X maggiore, nell'altro momento l'emissione X che cala. Perché? Allora, per vari motivi. Un motivo è quello di occultamento, no? Cioè, quando vedi tutte e due le sorgenti, ok, posti in questa, diciamo, in questa prospettiva, vedrai l'emissione X di tutte e due le sorgenti. Poi, quando le sorgenti sono disposte in questa direzione, lungo la tua linea di vista, l'emissione prodotta da una viene oscurata dall'altra, quindi l'emissione totale calerà. Dopodiché riaumenterà, poi calerà. Poi, anche per altri effetti, in realtà, quello che ci si aspetta è un andamento periodico nell'emissione della banda X. Per cui, insomma, una delle caratteristiche che avevo notato era questa, che, diciamo, l'emissione nella banda X, nei raggi X di questa sorgente variava in maniera periodica, con un periodo che, tutto sommato, era il periodo che ci aspettavamo sulla base di altre, diciamo, di altre proprietà, se la sorgente, fosse una sorgente ospitante di due buchi neri supermassicci. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto un catalogo di sorgenti X, ok? E siamo andati a cercare in questo catalogo di sorgenti X quali sorgenti mostrassero una variazione nell'emissione nei raggi X periodica nel tempo, no? E questo è quello che abbiamo fatto con Roberto. Nicoletta, ti ho perso? Ok. Sì, c'è stato un momento, anche io non la sentivo. La prossima domanda è, perché nell'articolo viene detto che è cruciale comprendere la densità dei buchi neri supermassicci nell'universo? Allora, perché? Per tante ragioni, però io penso che se riuscissimo veramente a contare quante galassie nell'universo contengono nel loro centro copie di buchi neri supermassicci, saremmo in grado di validare o confutare gli attuali modelli che ci spiegano, che predicono come evolvono le galassie nel tempo nel nostro universo, dall'inizio fino ad oggi. Perché questo? Dunque, perché questi modelli, che cos'è che ci dicono? Adesso te lo spiego forse in maniera troppo semplicistica, però dicono che all'inizio si sono formate le strutture, cioè le galassie più piccole. Queste galassie sono evolute con il tempo e hanno interagito tra di loro gravitazionalmente e coppie di galassie si sono fuse tra di loro per formare galassie più massicce, più grosse, ok? E così via. Questo viene detto modello di evoluzione gerarchica, no? Gerarchico, cioè dalla struttura più piccola alla struttura più grande. Allora, visto che ormai noto che in tutte le galassie, sia le primissime galassie che le galassie più vecchie, al loro interno contengono un buco nero supermassiccio, allora tu capisci che se le galassie nell'universo sono evolute, no? Fondendosi e formando una galassia nuova e ciascuna delle due galassie conteneva un buco nero supermassiccio, mi aspetto che le galassie che si sono venute a formare contengano due buchi neri supermassicci al loro interno, cioè una coppia di buchi neri supermassicci. Allora, secondo questi modelli di evoluzione delle galassie, copie di buchi neri supermassicci dovrebbero esistere e dovrebbero anche essere in quasi tutte le galassie, no? In tante galassie del nostro universo, non in tutte ma in tante galassie, diciamo, del nostro universo. Allora, se noi osservativi, astrofisici osservativi, riuscissimo veramente, una cosa utopica ovviamente, a contare man mano che ci allontaniamo da noi, no? Cioè, sul volume dell'universo, riuscissimo a contare quante galassie effettivamente contengono coppie di buchi neri supermassicci, allora capisci che riusciremmo a dire, ok, i modelli che ci dicono, che ci spiegano al momento come evolvono le galassie sono corretti oppure vanno un po' revisionati perché le osservazioni non sono proprio tanto in accordo. Quindi in questo senso sono fondamentali, ma non solo, anche perché insomma danno delle informazioni anche su come si formano e come evolvono i buchi neri stessi supermassicci, no? Cioè, allora, come evolvono nel tempo? Evolvono facendo quali scienza tra di loro e dando e formando un buco nero ancora più grande oppure in un altro modo, capito? Quindi, cioè, sono fondamentali proprio per capire come evolvono le strutture dalle galassie ai buchi neri nel nostro universo, dall'inizio ad oggi. Ma sei teorizzato che questa cosa possa essere accaduta anche quindi nella nostra galassia, che quindi al centro della nostra galassia ci siano, ci siano coppie di buchi neri o dovremmo aspettare l'incontro con Andromeda per poter ipotizzare questa cosa? Allora, per ora non si è ipotizzato perché in realtà adesso non è che proprio in tutte le galassie, no? Ci si aspetta coppie di buchi neri perché questi buchi neri poi si fondono insieme e creano un singolo buco nero. Forse anche questo è tutto da verificare perché non lo sappiamo ancora. Cioè, diciamo che in tutte no, ma è aspettato in tante galassie, ok? Però per la nostra, perché che io sappia ancora non si ha evidenza, ecco. Va bene, grazie. L'ultima domanda è, grazie a quali strumenti sei riusciti a rilevare la presenza di queste onde gravitazionali generate dalla coppia di buchi neri supermassicci? No, allora, in realtà le onde gravitazionali che abbiamo rilevato fino a questo momento sono onde gravitazionali prodotte per coalescenza di buchi neri ma di masse molto più piccole. Cioè, i buchi neri supermassicci, come ti ho detto all'inizio, hanno masse dal milione al miliardi di volte la massa del nostro Sole. Le onde gravitazionali che si sono misurate sono prodotte per coalescenza di buchi neri di qualche decina di masse solari, ok? Al massimo, cioè al massimo qualche decina di masse solari. E hanno frequenze che sono dell'ordine del 100 Hertz, ok? Queste onde gravitazionali che abbiamo rilevato da Terra, ok? Da Terra ci sono dei limiti. Quali sono? Il fatto che non si riesce al momento, diciamo, a rilevare onde gravitazionali sotto qualche Hertz, ok? Con frequenza sotto qualche Hertz. Perché? Perché ci sono fonti di rumore, quali per esempio i microsismi che ci sono sulla Terra, prodotti anche dagli oceani, dall'atmosfera, no? Tutte queste fonti producono dei sismi, no? E quindi sono un rumore, no? Quando si vuole detettare appunto un passaggio di un'onda gravitazionale. Quindi da Terra siamo limitati a qualche Hertz, ok? Quindi per ora da Terra con gli interferometri abbiamo, siamo riusciti a rilevare onde gravitazionali però prodotte dalla coalescenza di oggetti collassati però di masse molto molto più piccole rispetto a quelli dei buchi neri supermastici. Però quello che siamo riusciti a fare, che cos'è? è misurare, non noi, diciamo la comunità astrofisica internazionale, per esempio Sesana è in questa collaborazione di cui ti sto parlando adesso, quindi ti potrà spiegare molto bene. Siamo riusciti a misurare il contributo totale delle onde gravitazionali che lambiscono la Terra al nano Hertz, 10 alla meno 9 Hertz. Queste sono proprio le frequenze aspettate per onde gravitazionali prodotte da coppie di buchi neri supermastici nelle galassie, ok? Quindi non siamo riusciti ancora a misurare il singolo debole segnale, ok? Dell'onda gravitazionale prodotta da quella coppia di buchi neri che no, ma siamo riusciti a misurare il contributo totale di tutte le onde al nano Hertz, ok? Con frequenze di 10 alla meno 9 Hertz che lambiscono la Terra, che si chiama fondo di onde gravitazionali. E come si è fatto a fare questa misura? utilizzando la tecnica del Pulsar Time Array, che utilizza ed effettivamente l'International Pulsar Time Array, che è un array, una rete di radiotelescopi disposti, se non ricordo mai, in Nord America, Europa, Australia, insomma in tutto il mondo, che misurano degli impulsi radio che vengono emessi da sorgenti galattiche che si chiamano pulsar, che sono stelle di neutroni che ruotano molto velocemente e a intervalli molto regolari emettono questi segnali, ok? Segnali radio. Allora questa rete di radiotelescopi misura questi segnali, questi impulsi e misura l'intervallo di tempo che passa tra un impulso e l'altro. Questo intervallo di tempo è costante negli anni, è sempre costante negli anni. Allora misura questo intervallo di tempo. Come misura l'intervallo di tempo, questa rete di radiotelescopi è in grado anche di misurare le variazioni su questi intervalli di tempo, no? E le hanno misurate e queste variazioni sono associate che cosa? Al passaggio di onde gravitazionali che producono variazioni nel tempo d'arrivo dell'impulso radio, ok? Quindi per il momento, diciamo da terra tra virgolette perché utilizziamo comunque corpi celesti, siamo riusciti a misurare questo fondo di onde gravitazionali al nanohertz. La situazione cambierà enormemente tra qualche anno, dopo il 2030, perché a parte il fatto che il pulsar time array migliorerà sempre di più, quindi aumenterà la sua sensibilità di rilevazione delle onde gravitazionali, aumenteranno i radiotelescopi che verranno messi a disposizione per questo programma, eccetera. Però dopo il 2030, quello che accadrà è che verrà messo in orbita un interferometro che si chiama Laser Interferometer Space Antenna, l'ISA, ok? E anche in questo progetto Cezana è fortemente coinvolto, quindi potrà sfruttare tutte le sue conoscenze a riguardo. Praticamente è un interferometro a questo punto che sarà posto in orbita intorno al Sole, quindi non sarà sulla Terra, no? E quindi non ci saranno più tutte quelle fonti di rumore che abbiamo qua sulla Terra, non saremo più limitati nel misurare anche onde gravitazionali con frequenze molto più piccole, ok? Nicoletta ci sei? Ah, perché ogni tanto ti perdono. Ok, molto più piccole, tipiche proprio delle onde gravitazionali emesse da buchi neri supermassicci. E come sarà fatto? Insomma, sarà costituito da tre satelliti artificiali, no? Con una posti al vertice di un triangolo equilatero, ok? A una determinata e ben fissa distanza tra di loro, la loro distanza verrà misurata con un interferometro laser, ok? E verranno misurate anche variazioni sulla distanza di questi satelliti dovute al passaggio di onde gravitazionali, ok? Più o meno funzionerà così. Adesso io i dettagli proprio specifici, però più o meno questo è il concetto. E questo strumento, questo interferometro, appunto ci farà fare dei enormi passi in avanti perché sarà molto sensibile, no? Avrà una sensibilità molto elevata e riuscirà appunto a rilevare onde gravitazionali fino al millihertz, cioè e anche oltre, e anche più basse. Cioè praticamente quelle onde gravitazionali che vengono, che ci si aspetta che vengano emesse proprio diciamo nel momento della precoalescenza dei due buchi neri supermassicci e sarà in grado di rilevarle sia in galassie vicine che lontane. Poi l'ultima cosa che è una cosa secondo me bellissima, un progetto, diciamo l'ISA è un progetto dell'Agenzia Spaziale Europea e in cui l'Agenzia Spaziale Italiana è fortemente coinvolta. Però c'è un altro progetto che invece è in una fase ancora molto più embrionale se vuoi, che sempre se andrà in porto, andrà in porto ben oltre il 2030, che invece prevede di portare dei sismografi, i sismografi che si usano per misurare i terremoti, no? Le scosse di terremoto qua sulla Terra, di portarli sulla Luna, ok? Non saranno ovviamente gli stessi sismografi perché bisognerà studiare come portarli, dove metterli, come farli, insomma tutto, si sta studiando tutto quanto. Però l'idea è di portarli sulla Luna perché la Luna non ha oceani, non ha atmosfera, non ha tutte quelle fonti di rumore che producono quei micro sismi che disturbano nella rilevazione delle onde gravitazionali, ok? E quindi, diciamo, questo progetto è veramente un progetto molto ambizioso, si chiamerà, già si chiama, anche se appunto è ancora in una fase molto embrionale, Lunar Gravitational Wave Antenna. E diciamo, in parte, invece, in questo progetto siamo coinvolti, anche noi, come osservatorio di Brera, ovviamente più dalla parte scientifica, ecco, cioè, diciamo, noi stiamo cercando coppie di buchi neri supermassici che saranno poi la controparte elettromagnetica delle onde gravitazionali che troveranno, rileveranno questi altri strumenti, insomma. Grazie. Ascoltando, mi sono venute in mente due domande, Axuola può rispondere velocemente. La prima è, che relazione c'è quindi tra la frequenza che arriva qua sulla Terra o comunque agli interferometri e un buco nero? È una relazione di grandezza o da cosa è dovuto? Allora, dipende da diversi parametri, diciamo, dipende dalla massa, ok, e anche dalla distanza dei due buchi neri, ok? Mentre invece, ovviamente, l'intensità dipende dalla distanza, ok? L'onda gravitazionale viene emessa e poi, diciamo, scala, diminuisce l'intensità come la distanza. Ok, quindi ci arriverà più debole. Però ci sono modelli matematici, tutti, diciamo, io non li so nel dettaglio, no? Però, appunto, a seconda della, per esempio, quando sono state detettate le onde gravitazionali, rilevate le onde gravitazionali con gli interferometri da Terra, in base alla frequenza, all'ampiezza, eccetera, ci sono dei modelli matematici che ti permettono di ricavare la distanza, la distanza reciproca, la distanza da noi e le masse, no? E tutti questi parametri, poi, diciamo, in qualche modo sono legati alla frequenza di emissione dell'onda gravitazionale. L'ultima, eh, ma, quindi, per il progetto, invece, l'ISA, questi tre satelliti, appunto, attorno al Sole e la minima variazione di distanza, diciamo, sarà comunque cruciale perché ci dirà se effettivamente sono passate delle onde gravitazionali. Ma non c'è, come si evita il rischio che comunque, ad esempio, il vento solare esposti comunque anche, cioè? Oh no, guarda, questi dettagli tecnici non te li so, non ti so rispondere, però sicuramente Alberto, che è molto dentro a questo progetto, ti sa dare una risposta. Francamente, questi dettagli tecnici non so risponderti. Effettivamente sono tutte buone domande, anche per me è veramente un'impresa enorme quella che stanno facendo e, diciamo, però non so dirti questo dettaglio, non lo so. Sicuramente Alberto però ti sa rispondere. Grazie mille, davvero. Figurati. Grazie mille del suo tempo. Grazie a te. Arrivederci. Ciao, buona serata.